Tutti dobbiamo pensare che ancora ci sono 90 minuti di fuoco e il Lecce ha tutto per poter vincere in tutti i campi, è chiaro che però noi dobbiamo farci trovare col coltello tra i denti e fare una partita per vincere come sempre. Quindi senza pensare a quello che si sente una finale ipotecata, un piede già in finale, non è così, sennò sbagliamo tutti e poi piangiamo. Allora è meglio prepararsi bene, stare concentrati e stare coi piedi per terra perché oltretutto è la verità perché non abbiamo 3-4 gol di scarto, quindi non c'è proprio da stare più di quello che si deve stare felici. Abbiamo fatto una partita buona, abbiamo vinto, stop, finisce lì.